Buongiorno, benvenuti a questa zuppa domenicale, 25 agosto. Allora, il termometro della crisi è sempre difficile stabilire a che temperatura è. La temperatura che vedete in questo momento è una temperatura calda, però in America se solo si decidessero ad abbassare un po' l'aria condizionata, forse chissà quanti pippe in meno di ambientalismo avremmo nello spreco delle risorse di questo pianeta. Basterebbe un'aria condizionata un po' normale, per cui non saremmo obbligati ad avere il golf anche in casa. Ma comunque, chiusa la parentesi sugli Stati Uniti, la cosa che mi interessa di più è come la pensano i giornali su questa crisi. Mi ha colpito oggi Repubblica, poi andremo sui fatti, che è uno dei giornali insieme all'organo catto comunista L'Avvenire, forse e in parte alla Corriere della Sera, certamente invece in maniera esplicita all'Economist. Insomma, in questa fila di giornali che vuole il governo PD, Movimento 5 Stelle, diventi con la stampa ovviamente, poi ve la citerò meglio, oggi Repubblica dice, non so se perché, è come possiamo dire un po' scaramantica, il voto è più vicino, in una didascalia all'interno della prima pagina. Non so se questo sia vero, ma cosa è successo ieri? Ieri è successo sostanzialmente una cosa che tutti quanti noi consideravamo una non notizia, cioè che Conte scaricasse la Lega. Beh, bastava assistere, io non l'ho fatto in diretta, ma al discorso fatto in Parlamento da Conte davanti a Salvini, che si era chiaro che tra i due non c'era più possibilità di rapporto, ma ieri a Biarritz, dove c'è il vertice del G7, tra un vino francese tassato e meno, e l'Amazonia che va a fuoco o meno per colpa di Bolsonaro, è chiaro, Conte è riuscito a dire che con la Lega non c'ha nulla a che vedere, e su questo sono saltati i giornali, anche di diversi schieramenti, Repubblica, Conte, un'altra botta a Salvini, e chi se ne frega della botta di Conte, il tema fondamentale è chi farà questo governo, ma anche il giornale, di cui faccio il vice direttore, dice una cosa sempre su Conte, il Conte è diventato un iscritto del PD, e poi vedremo perché, il fatto quotidiano, invece il ritorno di Conte, cioè un signore che in questo momento mi sembra conti veramente poco, così come nei 14 mesi ha contato davvero poco, oggi diventa il centro del dibattito, perché Zingaretti non vuole un Conte bis, io vi invito a leggere non la fattoria degli animali, non il neolinguaggio orwegliano, basta leggere il portavoce del Movimento 5 Stelle, Travaglio, che oggi, almeno questo gli devo dare atto, non ci parla più in 500 righe, ma ne fa soltanto 30 che chiudono nella prima pagina del fatto, il portavoce del Movimento 5 Stelle ci spiega a tutti noi, rullo di tamburi, che non dobbiamo chiamare l'eventuale nuovo governo tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Conte bis, no, Conte 2, perché il Conte bis presume, secondo Travaglio, la stessa accordo politico, la stessa linea politica, le stesse, diciamo, continuità rispetto al passato, il Conte 2 invece no, vi rendete conto? Non dobbiamo chiamarlo Conte bis, cioè ci spiegano ormai come dobbiamo chiamare i prossimi governi, posto che in questo momento, nel borsino di tutti quanti i giornali, mi sembra dal messaggero, ai retroscena degli altri giornali, che stia avanzando un nuovo candidato alla Presidenza del Consiglio. E chi è? Il Presidente della Camera, Fico, dalla padella alla braccio, dal punto di vista politico, per carità, io lo conosco, Fico è una brava persona, mi sembra, a parte gli scandaletti sulla cameriera, che se fossero avvenuti a qualcun altro i gridini ci sarebbero saltati addosso, come sono saltati addosso, rispetto a De Polo, che è stato scarcerato. Ma comunque, lasciamo perdere, perché Fico è la persona migliore? Perché è l'uomo più di sinistra del partito di Maio, è quello che non voleva il decreto sicurezza, e quello che, secondo il retroscena dei giornali, Zingaretti avrebbe proposto come Presidente del Consiglio a Di Maio, sapendo che però, e questo ce lo raccontano tutti in retroscena oggi sui giornali, che Fico, Presidente del Consiglio, spaccherebbe alla grandissima il Movimento 5 Stelle, che su Fico non ha soltanto quella linea, diciamo, sinistra di Fico. Il ritorno di Conte, ve l'ho detto in tutte le maniere, questa cosa del Conte bis, che non si può dire, ma del Conte 2, veramente straordinaria, e direi che Feltri, molto divertente oggi sul Libero da citare, dobbiamo avere lo stomaco di ferro, perché invece l'idea che ha Feltri, che è diametralmente opposta a quella di Repubblica, e se si parla l'ICET, mi sembra che anche a me, da lontano quanto sono, si stia incamminando verso quella direzione, è che poi alla fine tutti questi veti, questi progetti diversi, questi elettorati diversi, insomma, sì, sono importanti, ma sono importanti fino a un certo punto, perché alla fine, diciamocela chiaramente, questi non vogliono andare a casa, e il governo insieme lo vogliono fare, scusatemi, sono raffreddato, qualcuno potrebbe dire che arrivi un fazzoletto, ma non arriva. Altri due commenti che vi segnalo, interessanti, uno di Veneziani, che dice, sarò un masochista, Marcello Veneziani non lo è, è ovviamente un artificio retorico, però fa una pagina intera Marcello Veneziani, per dire, io sono davvero curioso di capire come il nulla si possa sposare con il peggio, cioè Movimento 5 Stelle con una parte del PD e della sinistra più estrema, quindi è quasi propiziatorio di un governo a cui Libero e in verità non credono molto, ma che comunque lui dice, vediamo che danni possono fare, io non vorrei neanche vederla, anche se penso che il suo rito propiziatorio sia scaramantico. Cacciari, uomo di sinistra tradizionale, invece intervistato oggi dal quotidiano nazionale, ha una posizione totalmente come spesso gli capita eterodossa rispetto ai dogmi della sinistra, dice, ma che state a fa? Cacciari, non so dirlo in veneziano, ma dice, ma siete scemi a fare d'accordo con quelli che fino al giorno prima vi hanno fatto un mazzo così, fateli cuocere a fuoco lento, fateli perdere i loro voti, ma come fate a tenerli a galla? Cioè, la ragionevolezza per una volta da parte di un filosofo, sempre più aderente alla realtà, un filosofo che quelli che invece pensano alla loro poltrona, che però nei prossimi anni andrà bruciando se questi fanno questa alleanza, dice Cacciari, perché si tratta di un accordo di palazzo indecente. Il Movimento 5 Stelle c'ha gran casino, soprattutto Nota, Repubblica, Il Sole, scusatemi il Corriere, il giornale, ma tutti i giornali, alcuni aprono, altri come il fatto lo tengono basso, perché sulle loro bacheche online pare che ci sia un casino, io non lo so verificare, però dicono che ci sia un casino perché i loro elettori non vogliono l'accordo col PD. Se tu la bestia l'hai alimentata con carne umana dei pidioti, un brutto termine per definire il PD, assurdo, scortese, ingiusto, ma se tu li hai alimentati con i pidioti per 14 mesi e per gli anni precedenti, poi come fai a fare il governo con i pidioti? Come fai a controllare il tuo pubblico? Come gli fai a dirigerire i pidioti? Quello che io posso dire è che devono essere più idioti quelli che hanno dato dei pidioti per poter digerire i pidioti insieme ai loro beniamini del Movimento 5 Stelle, cioè proprio dei cazzoni quelli della rete di un punto o dell'altro oppure quelli che continuano a pensare che siano pidioti e con loro non si deve fare governo. Non ci avete capito nulla? Non importa, non ci ho capito neanch'io come si possa fare un governo tra perdenti e nemici come sono loro. Paragone, intervistato da uno di questi giornali mi sembra dalla verità, dice una cosa molto verosimile per uno del Movimento 5 Stelle, poi mi confondo se è della Lega di Forza Italia di 5 Stelle ma lui è 5 Stelle un senatore di 5 Stelle in questo limpido e dice ma come si fa a fare un accordo con l'establishment? Abbiamo avuto un successo elettorale in marzo proprio per aver battuto l'establishment e ora facciamo un accordo con loro. Insomma, mi sembra l'unico che abbia un po' di raziocinio nella sua testa o comunque una volta tanto un po' di coerenza rispetto alla richiesta che ha fatto all'elettorato. Tesi Economist oggi che vuole che si faccia questo governo il settimanale inglese oggi è tenuta da Molinari della Stampa che ci spiega che questa trattativa è importante anche per l'Europa che i populisti in Europa non governano il caso italiano era eccezionale e soprattutto in questo caso sarebbe eccezionale perché il partito di trazione maggioritaria cioè il Movimento 5 Stelle avrebbe in sé il partito tradizionale come quello del PD e questo non avviene in Europa per esempio in Spagna è esattamente il contrario in minoranza Podemos mentre in maggioranza il partito diciamo di Sanchez a questo punto dice Molinari vediamo se riescono a maturare questi diventare una forza centrista allora io mi dico una forza centrista ma voi state parlando del Movimento 5 Stelle ma lui allora io posso pensare che quelli dell'Economist vivono lì a Londra vivono diciamo nel loro mondo in cui pensano a Boris Johnson ma che un giornalista italiano possa pensare che questa forza sia e l'ha descritta perché quello del giornale è la stampa è il giornale di Torino è il giornale che conosce i notav è il giornale che conosce l'estremismo di questi signori può pensare che diventino centristi qualche giornale oggi dice che il vero progetto di Grillo è fare un nuovo partito ma ragazzi Grillo l'evasore fiscale quello che dice una cazzata dietro l'altra e qualcuno lo prende sul serio allora noi possiamo davvero pensare che esca un movimento centrista e questo le rete non so di Forza Italia dell'ADC metteteci quello che vi piace a voi o quello che a voi fa schifo questi secondo voi sono gli eredi perché allora vale tutto io ritornerò il 2 settembre con Quarta Repubblica con i toni di Quarta Repubblica più felpati come sapete qua è il mio sfogo quotidiano e spero anche il vostro e cercherò di capire queste cose ma mi viene veramente non so sembra di vivere un altro mondo se questi pensano che il Movimento 5 Stelle è il movimento dei centristi sondaggio di Dalimonte sul Sole 24 ore persona seria la Lega sta perdendo posizioni è arrivata al 33,7% del 34,3% delle europee il 38 di fine luglio per questa crisi di governo il PD arriva al 24 e il Movimento 5 Stelle arrivano al 16% quindi botta anche per loro ma il punto fondamentale di questo sondaggio che non è messo nell'evidenza secondo me che si dovrebbe mettere è che il 41% degli italiani vuole andare al voto e solo una minoranza vuole un governo PD Movimento 5 Stelle e comunque sia il 40% di PD e Movimento 5 Stelle è largamente inferiore alla maggioranza che avrebbe un centrodestra se mai si unisse bella incredibile non l'abbiamo commentata ma è l'unica grande storia se io fossi libero un uomo libero dai condizionamenti materiali dai contratti televisivi dai blog eccetera io passerei solo il tempo a raccontare la storia incredibile di Epstein altro che Me Too e le cazzate di Weinstein Epstein un mostro pare un mostro violentatore di ragazzine coperto dalle persone più importanti del mondo da Clinton a Trump a Andrew d'Inghilterra e a tutta la finanza che contava a New York un uomo che si è fatto a Brooklyn da nulla è diventato socio di un grande studio di finanza partendo soltanto dagli insegnamenti che faceva alla figlia come maestrino del liceo delle secondarie insegnava le secondarie non essendosi neanche laureato alla figlia di un grande finanziere e grazie alla conoscenza di questa figlia di grandi finanziere diventa l'uomo che riesce a fare un testamento da 560 miliardi e milioni di dollari due giorni prima di un presunto suicidio a cui non crede nessuno insomma una storia stupenda se ci fosse un giornalista che potesse raccontarla sarebbe straordinario qualche cosa oggi sul fatto due pagine ma non bastano è un fogliettone che dovrebbe durare mesi vi do appuntamento domani buona domenica ciao